Vaccini a Pesaro dal 29 marzo all'ex Ristò dell'Iperrossini. Continuano a aumentare i ricoveri da Covid, positivo un tampone ogni quattro. Ufficiale tutte le marche in zona rossa per le prossime due settimane. A Pesaro taglio del nastro alla rotatoria dedicata ai donatori del sangue. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV che ci seguite sul canale 633 delle Digitale Terrestre. Questa è Rossini News e apriamo il nostro telegiornale di venerdì 12 marzo con la campagna di vaccinazione a Pesaro che registra una importante novità. È infatti arrivato oggi l'ok a trasferire i vaccini all'ex Ristò dell'Iperrossini da fine marzo. La somministrazione dei vaccini a Pesaro si sposterà nell'ex ristorante Ristò all'interno del Rossini Center a cominciare dal lunedì 29 marzo. Dopo l'ok del comune di Pesaro arrivato lo scorso lunedì, oggi c'è anche l'ok della Regione Marche che ha effettuato un altro sopralluogo assieme al personale di Area Vasta 1 e del distretto sanitario. Presente al sopralluogo anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che ha ringraziato Area Vasta 1 e comune di Pesaro per essersi prodigati nell'individuare un nuovo sito vaccinale reputato assolutamente adeguato. Ringraziamenti anche alla proprietà del Ristò che metterà a disposizione gratuita i locali che saranno attrezzati e informatizzati ai fini della vaccinazione. Intanto proseguono le inoculazioni al Centro Sociale Monaldi in Via del Cinema almeno fino al 25 marzo. Dopodiché dal 26 al 28 marzo, date in cui non sono previste vaccinazioni, si effettuerà il trasloco delle attrezzature dal Monaldi al Ristò per i vaccini che cominceranno nell'area della Torraccia il 29 marzo. Non sono invece emerse novità rispetto alla possibilità di allargare la sede della Celletta nella vicina palestra di Via Pasolini inizialmente avallata dal comune di Pesaro. Sempre in tema di vaccini, ieri è stato ritirato l'otto sospetto del vaccino AstraZeneca ABV 2856 nelle Marche, come in tutta Italia, dopo la segnalazione dell'AIFA che ha portato alla sospensione della somministrazione dell'otto in seguito a tre morti sospette in Sicilia. Un ritiro strettamente cautelativo perché ad oggi non è stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino ed eventi avversi. Anche dalle autorità sanitarie arriva l'invito a non creare psicosi visto che effetti come febbre e dolori muscolari rientrano tra le normali reazioni all'inoculazione. Nelle Marche, i vaccini AstraZeneca in questione sono stati somministrati a 1.750 persone, la maggior parte di questi, circa 1.000, proprio a Pesaro all'ospedale di Muraglia in occasione delle vaccinazioni a forze dell'ordine, professionisti di giustizia e a parte della sanità locale. Somministrazioni già effettuate da giorni e che non hanno prodotto episodi di effetti collaterali rilevanti. E continuano a crescere i ricoveri da Covid-19 nelle Marche. Oggi altri 15 rispetto alla giornata di ieri e siamo arrivati a 784 in regione con ben 111 ricoveri in terapia intensiva, cioè 4 in più di ieri. E sale anche il rapporto fra casi positivi al contagio rispetto ai tamponi effettuati. Ora siamo al 24,5%, cioè quasi un tampone positivo ogni quattro. I nuovi casi positivi sono infatti 874 su 3.573 nuove diagnosi per un totale di 5.866 tamponi effettuati. In provincia di Pesaro Rubino si sono registrati oggi ben 207 casi. Nella giornata di ieri sono anche venute a mancare nelle Marche 11 persone contagiate da Covid-19. E sono dati che spingono le Marche verso la zona rossa anche oltre la data di domenica 14 marzo prevista dall'ultima ordinanza regionale. E' infatti arrivata alle 18.40, quindi poco fa, la conferma ufficiale da parte del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che tutte le Marche saranno zona rossa per le prossime due settimane. Dunque, il provvedimento attuale che vede 4 province su 5 in zona rossa fino a domenica verrà esteso all'intera regione e per altre due settimane a partire dal lunedì 15 marzo. Questa dunque la comunicazione arrivata da Acquaroli e dal Ministro Speranza, che ha comunicato che la soglia dei 250 positivi su 100.000 abitanti calcolata su base regionale sarà il criterio adottato per valutare le regioni che entrano in zona rossa. Tragedia questa mattina da Pecchio, dove è morto il 73enne Massimo Lucchetti. L'uomo, pensionato, attraversava la strada a Pecchiesi in pieno centro storico attorno alle 11, quando è stato travolto da un'automobile guidata da un uomo per responsabilità in via d'accertamento da parte dei carabinieri. Inutile il tempestivo soccorso dei sanitari del 118. Ed è morta oggi, proprio nel giorno del suo compleanno, Alessandra Ciolli, professionista della comunicazione e della cultura stimata su tutto il territorio provinciale. Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesa pesarese di Cristo Re. Ed è morto anche Marco Facondini, pesarese apprezzato tecnico di progettazione acustica, che ha regolarmente lavorato per tante rassegne culturali, dal Teatro delle Muse al Teatro Rossini, ma anche al Conservatorio di Pesaro, alla Vitrifigo Arena e alle rassegne jazz di Fano e nelle cortile pesarese di Palazzo Ricci. È invece prematuramente scomparsa lo scorso settembre la volontaria animalista dell'Associazione Melampo, Simona Marocini, alla quale il Comune di Fano ha dedicato oggi una targa commemorativa installata al Canile di Tre Ponti, al quale la Marocini si è dedicata con passione e generosità. E dopo lo stop ai lavori dell'ex Consorzio Agrario del Porto di Pesaro avvenuto a fine febbraio, oggi il GIP di Pesaro ha incaricato tre periti esperti di fama nazionale per fare chiarezza interpretativa al PRG del Porto di Pesaro. Uno snodo fondamentale per comprendere se si può procedere con le previste due torri da 70 appartamenti dopo l'incidente probatorio che ha bloccato tutto sollevando il dubbio che in quell'area si possano edificare solo costruzioni di stretta pertinenza portuale. E sono 594 le imprese della città di Pesaro che hanno attualmente sospeso l'attività a causa della zona rossa. Aspettando i ristori governativi anche il Comune di Pesaro ha cercato di dare un sostegno con diverse iniziative. Da ultimo il bonus Tari. Ne abbiamo parlato con l'assessore Francesca Frenquellucci che sottolinea però come il 2020 a Pesaro si sia concluso con un inatteso saldo positivo tra le aziende che hanno aperto e quelle che hanno chiuso. Il Comune di Pesaro oltre al bonus innovazione e il bonus blocco attività ha cercato di fare delle azioni che andavano direttamente in aiuto delle imprese. Adesso con il bonus Tari ieri si è conclusa la possibilità di fare la domanda e hanno partecipato circa 160 imprese quindi è un aiuto concreto avranno il 50% della quota che hanno pagato negli anni precedenti e cerchiamo di andare in aiuto in questo senso però non ci fermiamo abbiamo anche nuove idee e nuovi progetti che riguardano l'impresa e soprattutto la digitalizzazione. La cosa strana che abbiamo notato delle imprese del Pesarese è che i dati sono in positivo cioè nel senso che nel 2020 sono più le imprese che hanno aperto di quelle che hanno chiuso quindi da parte degli imprenditori c'è la voglia di lavorare all'interno di Pesaro e noi come amministrazione dobbiamo cercare di accompagnarli in questo nuovo modo di fare commercio e impresa che riguarda appunto il digitale e abbiamo visto che parliamo di transizione ecologica transizione digitale e quindi è giusto che l'amministrazione segua e aiuti le imprese con la formazione e creare dei progetti che mirano a semplificare il lavoro delle imprese. Tra le attività chiuse è un aiuto importante in arrivo per i circoli? Sì abbiamo voluto anche aiutare i circoli della nostra città perché sono chiusi da troppi mesi hanno bisogno di un aiuto anche loro perché sono un aiuto alla collettività e anche come sappiamo anche gli anziani si ritrovano dentro questi circoli e socializzano quindi era fondamentale dare un aiuto e dare anche una risposta a loro e quindi la scorsa settimana è passata in giunta questa delibera che va in aiuto dei circoli. sempre meno carta e sempre più procedure digitali restando in tema di innovazione è questo l'effetto del progetto Digipalm della Regione Marche per le pubbliche amministrazioni vediamo Fuga in avanti dalla Digital Divide 187 fra comuni ed enti della Regione Marche hanno già aderito a Digipalm ovvero al nuovo progetto presentato da presidente e vicepresidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e Mirco Carloni finalizzato alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali delle Marche con Digipalm meno certificazioni cartacee e procedure più agili diffondendo l'utilizzo di sistemi nazionali come l'app Io Speed e Pagopà il tutto con la Regione Marche che funge da intermediario tecnologico è stata una delle prime cose che ho fatto insieme a Dottoressa Carota del servizio informatica abbiamo incontrato l'ex ministro Pisano che ci ha ascoltato su un progetto sperimentale di nuovi servizi digitali per la pubblica amministrazione e questo come effetto per i cittadini provocherà una semplificazione e una digitalizzazione di tanti di quelle certificazioni che prima bisognava produrre in modo cartaceo invece con questo nuovo sistema che presentiamo oggi la gran parte dei nostri comuni che hanno voluto aderire su base volontaria al progetto circa 187 potranno attivare per i loro cittadini dei servizi altamente innovativi questo è un passo avanti per la tecnologia applicata ai servizi pubblici e a Pesaro c'è una rotatoria che da oggi è dedicata all'Avis e a tutti i donatori di sangue della città una goccia su una mano tesa a donare e ricevere sangue è questa la statua che troneggia nell'installazione che da qualche giorno occupa la centralissima rotatoria pesarese collocata fra via Mameli via del Monaco e il Ponte Brigata ebraica un monumento dedicato ad Avis e al sentimento altruistico dei tanti donatori del sangue pesarese che da anni offrono un servizio fondamentale per la macchina sanitaria del territorio un'installazione che Avis ha realizzato grazie ai progetti elaborati dal liceo artistico Mengaroni è un'opera che in primis abbiamo voluto creare per rappresentare per omaggiare tutti i donatori di sangue perché noi pensiamo che i donatori di sangue siano una forza che lavora all'interno di Pesaro che aiuta la città a vivere bene avere una speranza di vita per tutte le persone che sono affette da malattie che si devono curare quotidianamente e questa forza però è nascosta e silenziosa perché non sempre se ne parla non sempre se ne scrive e invece noi oggi abbiamo voluto portare alla luce questo lavoro che è frutto di un progetto di due anni adesso quello che vedete è l'idea di una mano una mano che tiene la goccia la mano quando è proposta a donare è aperta verso l'alto infatti questa è una mano che dona ed è una mano anche che è pronta a ricevere una parte delle classi del Mengaroni ha collaborato con noi per un anno e loro hanno studiato cosa vuol dire la donazione hanno fatto ricerche e hanno prodotto dei elaborati sono venuti una trentina mi pare di elaborati fantastici l'elaborato scelto dall'Avis è stato quello di Davide Coschiera mentre la realizzazione è stata concretizzata grazie alla ditta pesarese di MM a tagliare il nastro anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci da 12 anni donatore di sangue abbiamo avuto degli incontri con il comune che ci ha dato subito la disponibilità di posizionarlo all'interno di una rotatoria della nostra città vicino all'istituto Mengaroni così i ragazzi ne prendono esempio e lo vedono sempre ma anche vicino all'ospedale i ragazzi in questo modo hanno avuto la possibilità sia di rapprociarsi a un possibile lavoro perché comunque sono stati tutti premiati con dei buoni ma anche hanno avuto l'occasione anche di conoscerci e qualcuno infatti è diventato anche donatore e questo per noi è stata la vittoria più grande noi vorremmo che questo fosse un omaggio per tutti i donatori come dicevo prima e anche un pensiero anche un campanello per chiunque passi qui e veda la goccia e chi è che ha avuto magari l'idea o nel cuore ha la voglia di donare sia pronto a venirci a trovare e diventare donatore perché specialmente come in questo periodo come dicevo prima non si sa però noi l'ospedale di Pesaro Pesaro da maggio ha iniziato la raccolta del plasma iperimmune tutt'oggi questa raccolta sta andando avanti e tutte le sacche sono sempre state donate e i pazienti che hanno ricevuto il plasma iperimmune sono andati tutti in via di guarigione l'avvocato pesarese Elena Fabri ha ricevuto oggi il premio eccellenza donna 2021 dal dipartimento tutela delle vittime di Fratelli d'Italia vediamo il servizio va all'avvocato penalista Elena Fabri il premio eccellenza donna 2021 per la provincia di Pesaro Urbino un premio che un anno fa fu assegnato la scenografa Angelica Sbrega di San Costanzo e che in una seconda edizione tenutasi in cerimonia ristretta per le limitazioni vigenti ha premiato nella sala Adele Bay della provincia l'impegno in prima linea della Fabri nei tribunali e in quotidiane azioni di volontariato in aiuto alle donne e ai minori vittime di abusi e violenze in primis perché l'avvocato è anni che si occupa proprio della violenza contro le donne ma non solo come professionista ma anche come volontaria della nostra associazione Gensnova e sta avendo tantissimo successo fra l'altro il nostro avvocato è riuscito anche a costituirsi parte civile a Bibiano su 19 associazioni ne sono rimaste due è un grande successo lei fa tutto questo come volontariato ed è da ammirare perché è anche una grande professionista di conseguenza trova anche il tempo per fare del bene a tutte le donne che si rivolgono a lei a consegnare il premio è stata Cristina Cannas responsabile provinciale del dipartimento tutela vittime fratelli d'Italia dipartimento che da due anni assegna il riconoscimento su scala nazionale a donne particolarmente distintesi nell'aiuto alle fasce deboli premiata per il 2021 la scrittrice psicoterapeuta Maria Rita Parsi ma eccellenza donna è un premio che si ramifica in ogni provincia ad applaudire la scelta pesarese di Elena Fabri il partito fratelli d'Italia rappresentato per l'occasione dal dirigente nazionale Antonio Baldelli e da Giacomo Toccacieli presidente provinciale di gioventù nazionale abbiamo proprio scelto Elena per le sue battaglie per il suo coraggio per la sua determinazione che ogni giorno nelle aule dei tribunali pone in essere per difendere dalle ingiustizie i più deboli che è vittima delle ingiustizie sia sociali che giudiziarie di violenza e quant'altro di conseguenza Elena è un vanto per il nostro territorio e noi che il nostro territorio da sempre lo difendiamo con le nostre battaglie in difesa dei diritti di tutti dalla sanità alle strade provinciali nazionali che sono un colabrodo difendiamo i diritti di tutti i cittadini e appunto abbiamo scelto Elena proprio perché nel concreto ogni giorno nelle aule dei tribunali difende i diritti di chi ne ha veramente bisogno che è vittima di violenza e di ingiustizia da sempre comunque mi occupo di tutela delle donne di violenza di genere e di violenza comunque delle fasce deboli ho già ricevuto altri premi precedentemente anche a livello nazionale ma per me oggi è una grande emozione perché la mia provincia mi riconosce comunque l'attività che faccio sul territorio e per me questo è veramente importante e soprattutto è importante penso per le donne che sono vittime di questo tipo di situazione perché possono sapere che c'è una professionista a loro disposizione in modo completamente gratuito che le aiuta e può dare dei consigli per tipi di situazioni che sono veramente gravi quindi noi vogliamo prevenire certi tipi di situazioni che purtroppo occupano oggi le prime pagine delle cronache nere nazionali e speriamo comunque di poterlo fare parlando ed aiutando le donne che sono vittime di questo genere di situazioni noi abbiamo un'associazione che è un'associazione nazionale che nasce nel 2004 ma ad oggi è presente anche sul territorio grazie ai soci sul territorio grazie a me che sono appunto una professionista che si occupa di diritto penale grazie anche la delegata marchigiana che è Monica Panizza e io in qualità appunto di avvocato penalista metto a disposizione le mie conoscenze e la mia professionalità a tutta la cittadinanza ed ora lo sport seconda trasferta consecutiva domenica per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che dopo la brutta sconfitta di Cremona prova a rifarsi a Varese come ha spiegato ai nostri microfoni l'ala della VL Simone Zanotti diciamo la partita scorsa quella di domenica è stata una partita diciamo iniziata male abbiamo avuto un approccio sbagliato dall'inizio e poi non siamo più riusciti a recuperare diciamo quindi questo è stato un errore da parte nostra e forse hanno ci hanno fatto male le settimane diciamo di riposo e quindi ripartire così pronti via è stato un po' un un trambusto però questo logicamente non può essere usato come giustificazione dobbiamo riprenderci immediatamente per la partita prossima che è una partita forse ancora più importante quindi momento della squadra diciamo è quello di sempre logicamente manca una componente essenziale che è Repegia speriamo che ritorni il prima possibile però noi stiamo continuando a lavorare siamo logicamente sempre determinati come al solito quindi dobbiamo cercare di affrontare le partite con più serietà con più da subito con impegno ecco ecco l'assenza di Repegia quanto influenza questa quotidianità molto perché lui ha sempre un approccio molto diciamo serio determinato quindi molto esigente quindi richiede tanto da noi giustamente questa è una sua mancanza che si fa sentire ma come ho detto tante altre volte anche l'apporto che stanno dando Luca Pentucci Paolo Calbini quindi vice allenatore assistente è ottimo ecco quello che stanno facendo è ottimo quindi dobbiamo cercare di coprire questa mancanza e andare domenica e cercare di vincere Che avversario sarà Varese? È tosta perché comunque Varese sta lottando per salvarsi e lo sta dimostrando comunque domenica scorsa ha vinto anche quindi sarà una partita tosta soprattutto anche perché l'ha in trasferta quindi dobbiamo partire subito cattivi senza partire partendo piano senza partire piano quindi dobbiamo farci trovare pronti dobbiamo lavorare bene durante la settimana Restando in tema di sport ieri la Megabox Vallefoglia ha deciso di rinunciare alla semifinale di Coppa Italia di Serie A2 contro Macerata dopo il rinvio di 24 ore della partita per i tre casi di Covid-19 emersi nel gruppo squadra la società del presidente Angeli ha scelto dunque la responsabilità evitando di scendere in campo e di fatto perdendo in automatico il match e la possibilità di accedere alla prestigiosa finale di Coppa Italia di Serie A2 finale in cui dunque approda macerata contro Mondovì e domani torna in campo Little Service la squadra di calcio a 5 pesarese sarà in trasferta ad Avellino contro Lassandro Abate partita che come sempre potrete seguire in diretta su Rossini TV domani alle 16 infine il calcio sarà derby per la Vispesero che dopo due vittorie consecutive domenica Albenelli ospiterà la San Benedettese alle 17.30 scontro salvezza in trasferta per l'Almafano che sarà a Legnago domenica alle 15 e con lo sport si conclude questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata ed altri appuntamenti alle 21.15 appuntamento con Musiche Magiche di Gabriel Pier Giovanni De Leonì poi domani l'informazione torna puntuale in diretta dai nostri studi alle 7.20 con Buongiorno Rossini la rassegna stampa per l'occasione condotta da Antonio Astuti ve l'abbiamo già anticipato appuntamento con l'Ital Service con la partita in diretta della squadra di calcio 5 pesarese domani alle 16 contro la Sandro Abate Avellino e domenica l'appuntamento serale con Wine & Luxury alle 20.30 un'altra puntata che vedrà ospiti il sindaco di Gradara Filippo Gasperi l'esperto enogastronomico Hotel Lorenzi il direttore food and beverage del Mirabel Roma Luca Costanzi e il titolare di Zannetti di Watches Riccardo Zannetti Ed è davvero tutto anche per questa nostra edizione del Tg da parte mia di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV di Rossini TV